Riviere Banca, Baschett Rimini a caccia dell'impresa alla pala Carrara di Pistoia, tana di una Giorgio Tesi Gruppo ancora imbattuta davanti al pubblico amico e che divide con Cento e Forlì la testa della classifica con 18 punti. I biancorossi di punti ora ne hanno 10, dopo aver accelerato e portato a casa 4 referti rosa nelle ultime 5 gare disputate. E' partita da ex per Johnson e Landi. Coach Ferrari non può contare sul suo totem, Ogbeide, che ha subito un colpo al ginocchio in allenamento, dovrebbe rientrare già mercoledì sera per l'ultima del 2022 con San Severo. In quintetto parte Dalmeida e dopo tre minuti perde anche Capitan Bedetti, anche lui out per i postumi di un colpo. Così dopo la tripla di Masciadri, primo canestro della partita che fa volare in campo tanti peluche destinate al reparto di pediatria dell'ospedale di Pistoia, RBR sarà sempre costretta ad inseguire. I toscani infiliano subito un 14-0 che incanala la partita con Copland e Del Chiaro sugli scudi. Landi e Meluzzi provano a tenere in scia Rimini, che chiude il primo parziale sotto di 11, sul 20-9. Nella seconda frazione, prima Johnson e poi Meluzzi tengono Riviera Banca sotto la doppia cifra di svantaggio, prima che un break di 7-0, firmato Saccaggia e Della Rosa, non la faccia sprofondare a meno 15, 39-24. La tripla di Johnson manda le squadre all'intervallo sul 39-27. Nel terzo parziale Pistoia prende il largo, nuovo massimo vantaggio sul più 18 dopo la schiacciata di Del Chiaro, 47-29. Poi più 20 dopo l'affondata di Magro, 62-42. E più 23 al trentesimo dopo la tripla di Varnado, 65-42. Il canestro da 3 di Della Rosa e quello da 2 di Magro chiudono un parziale di 13-0 a cavallo delle due frazioni, che porta il punteggio sul 70-42. Pollone dalla distanza scrive il nuovo, e questa volta definitivo massimo vantaggio, più 29 sul 73-44. Prima che Johnson renda meno amare la sconfitta, con 14 punti nell'ultimo tempino, che lo fanno chiudere a quota 24, miglior marcatore dell'incontro. Finisce 79-62. Chiude in doppia cifra in casa romagnola Ancanumba, 11 e Landi, 10. Per la Giorgio Tesi Group, 15 punti per Del Carro, 13 per Della Rosa, 12 per Varnado e 10 per Copland. Che l'assenza di Ogbeide sia stata determinante, lo racconta la statistica dei rimbalzi. 40-23 per i toscani.